Ben ritrovati, è autunno, inizio dell'autunno, piove, fa anche freddo, ma ovviamente non siamo qui per motivi meteorologici. Mancano pochi giorni alla scadenza dell'ottava edizione del premio CET Scuola Autori di Mogol, che ho avuto il piacere di inaugurare e di ideare, che ogni anno vede in giuria, come presidente di giuria, il grande Giulio Mogol, il più importante autore della musica italiana. Per quale motivo faccio questo breve video? Perché vorrei raggruppare, raccogliere un po' di testimonianze da parte degli autori che in questi primi sette anni hanno partecipato a questo prestigioso premio. Per cui se sei un autore che ha già partecipato al premio CET Scuola Autori di Mogol, se sei stato presente in una delle prime sette edizioni alla manifestazione conclusiva di premiazione, se sei stato presente a qualche masterclass o qualche laboratorio che ho condotto con Giulio, sempre nei weekend dove c'era la premiazione di questo premio, se sei rientrato all'interno dei segnalati, dei finalisti di questo premio, se sei entrato all'interno dell'antologia del premio, se sei uno dei sette vincitori delle prime sette edizioni del premio, manda la tua testimonianza di questa bellissima manifestazione che dà la possibilità al vincitore di poter partecipare proprio alla Scuola CET di Mogol come autore, manda la tua testimonianza inviando un messaggio sulla pagina Facebook Aletti Editore, ti indicheremo un numero a Whatsapp dove inviare il tuo video, che sarà poi diffuso su tutte le nostre pagine Facebook e anche sul canale YouTube della Aletti Editore. Per cui sta per scadere, dicevo, l'ottava edizione del premio il 15 di ottobre, comunque, anche se non hai partecipato o sei partecipato a qualcuna delle passate edizioni, hai la possibilità di riprovare a mandare un testo di una canzone o un testo di una poesia, da 1 a 3 per la precisione, sia edita che inedita, e provare a farti leggere anche dal grandissimo Mogol. Ci vediamo a presto. Ciao.